sia solo una scienza che pretende di essere esatta senza riuscirci mai, ma è soprattutto una cultura. L'ignoranza dell'economia della specie dipende sostanzialmente dalla cultura cristiana, perché la cultura cristiana è stata la cultura che ha messo in circolazione il concetto di individuo, il concetto di io, dove nell'anima. Servare animam è la cosa più importante, salvare l'anima è la cosa più importante. Per i greci l'individuo non aveva nessun valore, il suo valore consisteva nell'essere nella comunità, nella città. Il soggetto era la città e gli individui ricevevano riconoscimento solo in quanto cittadini della città, cioè il gruppo, la comunità era il fondamento della vita e l'individuo trovava la sua realizzazione all'interno della comunità. Lo dice benissimo Aristotele che l'individuo non è persona se non è nella comunità, perché chi vive solo, dice Aristotele, o è bestia o è Dio. Ecco, non ci sono alternative. L'uomo è un animale sociale, zon politikon, e il sociale viene prima dell'individuale. La stessa identità che noi rivendichiamo a noi stessi, la stessa identità è il frutto della relazione, il frutto del riconoscimento. Se nessuno mi riconosce non costruisco un'identità positiva, se qualcuno invece fin dalla nascita mi misconosce costruisco un'identità negativa. E quindi attenzione, non dimentichiamocelo mai, l'identità non è una cosa che ci compete per il fatto di essere nati, ma l'identità è un dono sociale, sono gli altri che ce la conferiscono. La relazione è il fondamento della nostra identità. La città è il fondamento del riconoscimento degli individui, tant'è che Rousseau dice che i cristiani non possono essere buoni cittadini, perché per loro quel che conta è la salvezza individuale. Lo possono essere di fatto, ma non di principio, perché il principio è salvare se stessi. Dopodiché oggi i cristiani si lamentano dell'eccesso di individualismo, ma questo individualismo l'hanno inventato loro. I greci non avevano questa nozione, anzi, i greci assumevano la natura come quello sfondo immutabile che nessun uomo o nessun Dio fece. Il compito degli umani era contemplare la natura. Dalla contemplazione della natura si ricavavano le leggi per la costruzione della città e per la buona conduzione dell'anima. Quindi la natura, la specie, era il riferimento. Ma che ci dice la specie? La specie ci dice che noi siamo mortali. Siamo mortali. In Grecia avevano due parole per dire uomo. La parola antropos è la parola ner, che non usano quasi mai. All'epoca di Platone usano la parola brotos, che vuol dire colui che è destinato a morire. E all'epoca di Platone usano la parola zenetos, che vuol dire mortale, zenatos, la morte. I greci chiamano l'uomo mortale, immortali. Ma questo che cosa significa? Che avevano consapevolezza che l'economia dell'io è iscritta nell'economia della specie, per cui tu nasci, cresci, ti riproduci e muovi. La prima però della filosofia è da dove hanno origini gli esseri viventi, lì hanno anche la loro distruzione, dice Anassimandro, perché devono pagare il fio della loro esistenza, secondo l'ordine del tempo. Il successo del cristianesimo consiste nel fatto, come dice bene Nice, colpo di genio del cristianesimo è aver detto agli uomini, voi non morirete mai. Questo è stato il colpo di genio per cui la cultura cristiana ha soppiantato la cultura greca. E quando Paolo di Tarso all'Areopago annuncia che i cristiani risorgeranno, andate a leggere il capitolo 14 degli Atti degli Apostoli, cito tra virgolette, gli atteniesi udite queste parole, dissero a Paolo di Tarso, questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta. Ma testuale, nel senso che per il greco è impensabile che l'uomo sia differente dalla pianta, dall'animale, che abbia un destino ultraterreno, perché la legge della natura ha bisogno del sacrificio degli individui. La specie ha una sorta di crudeltà innocente, che per farti vivere, che per la sua vita sacrifica gli individui. Quindi nascita, crescita, riproduzione, morte. Non c'è senso in tutto questo? No, non c'è senso dal punto di vista cristiano, ma i greci non avevano una nozione del tempo carico di senso come invece i cristiani dove alla fine si realizza quello che all'inizio era stato annunciato. Stavano nel loro limite e come si raggiunge la felicità in un contesto così desertificato dagli ideali dell'io, dai sogni dell'io, come si realizza la felicità? Lo dice bene Aristotele, nel libro dell'Etica, quando dice scopo della vita e la felicità, non l'hanno inventato gli americani, gli americani pensano di averlo inventato perché non capisco, non leggono mica gli antichi greci. Prima frase dell'etica è questa, scopo della vita e la felicità. E la felicità in greco si dice eudaimonia, eudaimonia, buona riuscita, eu o dire buono, buona riuscita del tuo demone. E cos'è il demone? Il demone è ciò per cui sei nato, è la tua vocazione, è la tua inclinazione e prima la devi riconoscere per poterla realizzare. Quando la conosci e la realizzi, gnotis auton, conosci te stesso, questo è il primo motto dell'oracolo di Delfi ripreso da Platone, ma poi arrivi il secondo monito, forse più importante del primo, dopo che hai conosciuto te stesso, realizzati, katametron, secondo misura, non oltrepassare la misura, puoi essere un bravo attore ma forse non sei bravo come Mastroianni e se tenti di diventare come lui non avendo la possibilità incontri la tua sciagura, incontri la tua rovina, katametron, secondo misura, ma da dove viene questo concetto di misura? Dal fatto che la misura di tutte le misure è la morte, hai un tempo limitato, in questo tempo limitato quando la vita ti riempie di gratificazioni, vivele ed espandila più che puoi e quando arrivi il dolore, sustine e abstine, reggilo e non metterlo in scena, non sei un uomo se lo metti in scena. Queste sono cose serie, i greci sono stati il popolo più serio mai apparsa sulla terra, Nietzsche dice perché hanno avuto il coraggio di guardare in faccia il dolore e il destino umano, a differenza di tutte quelle figurazioni consolatorie secondo cui la morte non c'è, il dolore serve per salvare l'anima, cioè attraverso la pratica giudaico-cristiana. Io sono greco e quindi vi dico queste cose a partire da questa mentalità greca, non è interessante essere credenti e non credenti, bisogna decidere se si è greci, cioè si crede alla morte e si crede che la nostra vita è regolata dall'economia della specie oppure si è cristiani e si crede che la nostra vita è regolata dal nostro io e dai nostri sogni e dai nostri ideali. In questo senso un greco muore seriamente, prendete Socrate, quando gli dicono guarda che possiamo uscire da questa prigione perché ho parlato con i 30 tiranni, qui c'è una barca, ti portiamo fuori, ce ne andiamo, anche loro gli va bene non uccidere Socrate, visto che sei famose si potrebbero creare disordine in città e Socrate gli risponde, quello che avevo da insegnare vi ho insegnato, vi ho detto di rispettare le leggi qualunque essi siano, giusto o sbagliate che sono, ho chiuso il mio ciclo, ecco qui il senso del limite, datemi la cicuta e non se ne parla più, gente seria. Se confrontate questa morte con quella di Gesù, invece abbiamo un'esposizione del dolore spaventoso, l'ultima cena, tu mi tradirai, l'orto degli olivi, i discepoli che dormono, qualcuno che non tradisce, il calvario, la flagellazione, la corona di spine, la freccia nel petto, mio Dio perché mi hai abbandonato? Perché ha fondato l'individualismo, ha fondato l'individuo, ha fondato la persona, ha fondato queste cose, tutto giusto nell'ottica cristiana, perché il dolore non è da sostenere e da reggere, come dicevano i greci, il dolore per il mondo cristiano è una riscatta dalla colpa, è una caparra per la vita eterna e quindi ha un senso, mentre per i greci non aveva nessun senso, apparteneva alla vita e quando ti giunge lo sopporti.